salve ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi io oggi ho acquistato una cosa davvero simpatica per Niccolò però adesso prima vi vado a spiegare allora come voi sapete io ho un bambino di due anni e mezzo se tutto va bene passato questo inverno per diciamo per primavera diciamo e cercherò di togliergli il pannolino speriamo di riuscirci ragazzi allora mi servono alcune cose visto che ero andato a fare un po di spesa ho visto che era in offerta e l'ho acquistato allora ce l'avete presente il vasino non è quello tradizionale adesso ve lo faccio vedere ragazzi rido perché quando l'ho visto me ne sono cioè ma non innamorata ci ho detto no cioè questo io lo devo comprare ma è davvero divertentissimo comunque adesso vi faccio vedere ce l'ho già qua ragazzi guardate che simpatico praticamente guardate proprio un bc ragazzi è meraviglioso pensate c'è anche il pulsantino che si preme e si sente tipo lo scarico no ce l'avete presente nome bellissimo ragazzi ma io sono rimasta proprio cioè guardate c'è anche il porta cartigenica cioè io praticamente quando inizieranno le belle giornate io dovrò camminare con questo coso praticamente dietro dietro sperando di riuscirci perché insomma ci sono alcuni bambini che c'hanno i loro tempi quindi io con mia figlia vabbè adesso sono passati tanti anni però mi ricordo che ho fatto subito non so con niccolò se sarà così facile ma ci proviamo ragazzi ciao a luglio farà tre anni insomma voglio dire è arrivata l'ora è arrivata l'ora guardate ragazzi no vabbè allora io provo ad aprirlo però ovviamente ancora vi dico la sincera verità non volevo aprirlo non lo monterò ragazzi semplicemente perché ancora facciamo passare tutti questi mesi invernali e poi verso fine maggio i primi di giugno inizierò se tutto va bene inizierò quindi adesso ve lo voglio solo far vedere così poi dopo lo rimetto di nuovo no raga secondo me è carinissimo secondo me che questa è la parte praticamente il pulsantino vediamo un po se riesco a prenderlo no raga guarda no ragazzi no vabbè raga guardate è bellissimo no è proprio bello raga vi giuro che è bellissimo sempre veramente un bici miniatura e vabbè diciamo che questo poi va messo così no è simpatico no raga è bellissimo non lo posso montare però raga ve lo devo far vedere in questo però è facile aspettate aspettate un attimo che queste ci sono riuscita vediamo un po si ragazzi sono riuscita guardate come simpatico allora qua c'è il porta e c'è il porta non so se riuscirò a no se va va tirato non lo so ma ok sì sì ok andava tirato guardate ragazzi quasi ci mette la carta igienica ma adesso non ci interessa e qua c'è pure il vasino che all'interno sarebbe questo qua così infatti qua poi non c'è niente ragazzi ma è davvero simpaticissimo guardate quanto è carino poi quasi preme ovviamente poi ci sono questi diciamo queste viti queste cose che poi andrà montato tutto quanto bene no a me è piaciuto tantissimo ragazzi ma proprio tanto 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 infatti sono rimasta quando l'ho visto vediamo se è riuscita a vederlo in miniature ragazzi no vabbè no sono contenta sono proprio contenta veramente anche perché non sono quei vassi quei vassini che insomma utilizziamo per almeno io che utilizzavo per mia figlia era tipo quella specie di macchinina a terra insomma adesso non ricordo manco bene perché sono passati tantissimi anni quindi immaginatevi però insomma voglio dire ok adesso l'ho già smontato così lo rimetto di nuovo poi andrà ovviamente andrà pulito tutto quanto e io sarò costretta ragazzi a camminare casa a casa con questo diciamo questo piccolo vasino oh vabbè troppo bello dopo lo metto a posto ma io sono rimasta contentissimo veramente è la prima volta che ho visto una cosa del genere infatti ho detto no il semplice vasino non glielo prendo allora adesso vi dico il prezzo allora il vasino che è una toilette con luci e suoni ovviamente c'era il 22 per cento di sconto l'ho pagato 25 euro e 99 era in offerta ragazzi quindi vi dico la sincera verità l'ho acquistato anche perché secondo me costava un po di più insomma tenete conto il 22 per cento di sconto quindi questo sono rimasta proprio contentissima ma è proprio guarda è proprio simpatico veramente chissà se ci riuscirà insomma voglio dire uno stimolo in più quindi vede questo vc piccolino in miniatura proprio all'altezza sua quindi sono contentissima e questo ragazzi non ho acquistato più niente oggi quindi ho acquistato solamente questo per un niccolò vabbè poi ho preso anche delle salviettine i pannolini vabbè le solite cose che insomma voglio dire non so qui a farvi vedere e quindi spero che anche a voi vi è piaciuto ovviamente fatemi sapere fatemi sapere se voi avete altri tipi di questi tipi di vasini particolari per me è una novità assurda perché non l'avevo mai visto la sincera verità e nel caso insomma fatemi vedere i posti mandatemi le foto oppure insomma scrivetemelo giù nei commenti ragazzi niente il video termina qua io vi ringrazio tantissimo come sempre grazie davvero di cuore per aver visto anche questo video se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e se vi fa piacere condividete e niente ragazzi ci vediamo domani con un altro video ciao ragazzi buona giornata a tutti